Presidente, io le faccio subito la domanda, oggi finisce l'avventura di Colombo sulla panchina del Pescara e arriverà Zeman? Ma guarda Enrico, io credo di averlo già detto, quest'anno veramente non ci ho messo nulla di mio, c'è un direttore, il direttore deciderà se vorrà cambiare allenatore e chi prendere, per cui la domanda non sarebbe da fare a me ma sarebbe da fare al direttore, perché sennò ogni volta mi si rimproverà tutto, che faccio le squadre, che gioco a calcio, che faccio quello, che faccio quell'altro, per cui quest'anno ho preso questa decisione e sarà così. Questo significa che se dovesse essere Zeman lei non si opporrà? Ma io non mi opporrò a nulla, né se decide di mantenere l'allenatore, né se decide di cambiarlo, né se prende Giovanni, Francesco o Zeman, non ho nessun problema perché credo fermamente in questa squadra e credo che obiettivamente oggi abbiamo dimostrato che c'è qualche problema perché non è pensabile che noi non abbiamo fatto un tiro in porta, non abbiamo giocato perché non abbiamo giocato, al di là del fatto che il Cerignola ha fatto una grande partita, arrivava sempre prima sul pallone rispetto a noi e quindi evidentemente qualche problema c'è. Allora ha anticipato l'analisi della partita che tra poco faremo, Presidente, le faccio l'ultima sulla questione allenatore, era qui fuori poco fa, lei proprio con il DS Dellicarri a parlare, avete accennato l'argomento, immagino di sì, cosa dice Dellicarri? No, no, non abbiamo parlato anche perché avremo un lungo viaggio da fare, anche se è corto, però in viaggio parleremo. La partita, verrebbe da dire chi l'ha visto al Pescara si è svegliato nei cinque minuti finali più il recupero, però più di nervosismo. Ma non è un risveglio quello, non è un risveglio perché secondo me è una reazione nervosa. È chiaro che questa squadra non può giocare buttando il pallone in mezzo all'aria, deve giocare a calcio per arrivare dove deve arrivare, quindi non possiamo pensare che i nostri due esterni vengano a fare i difensori, quindi noi dobbiamo pensare sia nel Pescara che dobbiamo attaccare. Mi sembra che questa sia una critica forte nei confronti del tecnico. No, no, io faccio una critica non solo al tecnico ma anche alla squadra perché poi in campo ci vanno i giocatori, quindi non è colpa solo, è sempre di una. È chiaro che purtroppo nel calcio pagano sempre gli allenatori, però non è una critica solo a lui. Presidente, io le faccio l'ultima battuta da parte mia, poi do il microfono a Fabio Ferraresi e a Massimo Profeta da studio. Ha detto, io quest'anno non ci ho messo bocca sulle scelte, ma se dovesse scegliere il presidente Sebastiani, cioè se questa situazione era di qualche anno fa, avrebbe cacciato l'allenatore? Noi veniamo, è innegabile che noi vediamo da una striscia negativa, ma molto negativa. E quindi è evidente che c'è qualcosa che non funziona ed è evidente che qualche decisione dobbiamo prenderla. Le faccio proprio l'ultima, conosce molto bene Zeman, chiaramente io parlo calcisticamente parlando. Questa è una rosa adatta al calcio di Zeman, secondo Sebastiani? Ma questa è una rosa adatta, se vuoi giocare a calcio è una rosa adatta a chiunque, non solo a Zeman. Per cui questa squadra all'inizio del campionato era sbarazzina, giocava, aggrediva, faceva tutto quello che oggi non fa, quindi evidentemente c'è qualche problema, onestamente non mi posso nascondere dietro un dito. Ecco l'auricolare, Presidente, quindi Fabio Ferraresi, Massimo Profeta da studio, il Presidente Sebastiani vi ascolta, ma insomma commentando con il Presidente mi sembra che l'esonero sia abbastanza scontato, Massimo e Fabio. Allora la domanda naturalmente la rivolgerà Fabio. No, io Presidente, prima con Massimo parlavo di una prestazione che secondo me ai giocatori deve far riflettere parecchio, perché ai miei tempi quando giocavamo noi, dopo una partita del genere, non si poteva manco andare a fare la spesa, doveva andare di tiro almeno due settimane. Non vorrei che qualcuno si sia un po' seduto sul fatto che la piazza comunque non è più calda come qualche anno fa, e quindi l'unico modo per secondo me mettergli un po' di pressione, non dico minacciare perché non è il caso, però magari ritardare qualche stipendio, portarli in ritiro, perché questa è una prestazione al di là poi degli errori del tecnico, è veramente che rasenta quasi il vergognoso, perché oggi se dovevano salvare una panchina nessuno ci ha messo del suo. Ma Fabio, io ripeto, ecco perché prima ho detto che le colpe vanno suddivise, perché evidentemente sicuramente al mister qualcosa di mano è scappato, però in campo poi ci vanno i giocatori, come dicevi tu oggi è stata una prestazione imbarazzante, perché con tutto il rispetto per la squadra che abbiamo incontrato, ma oggi loro sembravano in Real Madrid e noi una squadra di serie C, e non si può pensare una cosa del genere, perché come dici tu giustamente in campo ci vanno i giocatori, io poi sai come la penso sull'argomento, non sono, purtroppo quello che dici tu tagliare i stipendi non si può, quindi non è quello il problema, così come non è un problema se uno magari va a fare la spesa, non va a fare la spesa, io credo che i giocatori debbano fare il loro mestiere con professionalità a prescindere, e quindi non credo che abbiano bisogno di qualcuno che gli va a dire non vai a fare la spesa, credo invece che bisogna guardarsi tutti quanti insieme e capire che un atteggiamento come questo, una prestazione come questa è una prestazione proprio inguardabile, quindi io non sono, ripeto, non sono abituato, ci ho sempre messo la faccia, non sono abituato a nascondermi, però oggi veramente è stata una prestazione veramente imbarazzante, ma tutti perché oggi la nostra difesa sembrava una difesa che manca in eccellenza si trova, quindi evidentemente qualcuno bisogna che si faccia qualche domanda. Massimo, se hai anche tu una domanda per il Presidente, altrimenti chiudo io con una curiosità. Ma la domanda è questa, sarebbe pronto comunque a ricucire con Zeman il Presidente, mi pare di capire. Massimo, io come tu sai non ho mai discusso e litigato con nessuno, sicuramente se uno mi dice qualcosa io rispondo, come ho sempre fatto, quindi non ho nessun problema, ma poi non ho nessun problema nemmeno a sedermi con chiunque, a condizione che faccia il bene del Pescara perché questa è una squadra che sicuramente non merita di fare queste prestazioni qui, quindi a prescindere da chi dovesse arrivare è la squadra che si deve svegliare, è la squadra che deve pensare che non abbiamo fatto nulla fino adesso e se oggi dovessimo cominciare i play-off con questo tipo di atteggiamento non usciamo, non alla prima partita, non facciamo nemmeno la prima di partita. Presidente, la saluto così dicendo con Zeman, dovrebbe arrivare almeno da voci Gigi Hervese come secondo con Cangelosi che è impegnato, ce lo può confermare questo nel caso? Se voi sapete già tutto, io non lo so, quindi ancora non prendiamo una decisione, voi già avete messo il primo, il secondo, il terzo, ci manca pure che cambiate qualche giocatore.